Sì, torna il Medimex 2023 in una sua versione integrale ante-Covid, ma pienamente inquadrata nell'ambito della fase 2 delle politiche di turismo e cultura di Regione Puglia. L'idea di promuovere la Puglia attraverso i grandi eventi di spettacolo e di cultura, diversificando l'offerta, il prodotto e la scelta che abbiamo presentato in bit all'inizio dell'anno, che stiamo attuando nella logica di costruire un palinsesto unico di grandi eventi che devono essere lo strumento attraverso il quale i turisti, soprattutto stranieri, devono scegliere di venire in Puglia, con l'obiettivo di puntare non già e semplicemente sull'incremento quantitativo degli arrivi e delle presenze, ma sulla qualità di questi arrivi e queste presenze. E chiaramente un evento come Medimex si presta perfettamente in questa direzione, senza mai trascurare che il grande evento deve essere uno strumento che traina e promuove e valorizza i talenti del territorio. Questo è il senso per cui Medimex coincide con i bandi Puglia Sounds che andremo a mettere in campo, che copriranno tournee, produzioni, distribuzione di giovani talenti e non solo pugliesi, che si sono affermati in questi anni grazie alle strategie Puglia Sounds e grazie a una vetrina Medimex che quest'anno li vedrà protagonisti insieme ai grandi headliner, che sono ormai un'abitudine felice di questo grande appuntamento culturale e di spettacolo.